Siamo con l'ambasciatrice presso la FAO, Gladys Urbaneja, a chiedere il significato di questa attività delle ambasciate del Venezuela Bolivariano in Italia, due giorni per il ricordo del Presidente Sì, molto grazie e buona notte, effettivamente questa programazione la ha previsto il Ministerio di Relazioni Exteriore per che tutte le missioni in l'exteriore realizziamo una giornata mondiale denominata Por Qui Pasò Chavez, questa giornata come tu lo hai mencionato va a producirse il giorno di oggi, 4 di febrero, per conmemorare e ricordare il 4 di febrero di 1992 quando il Presidente insurgito a la politica venezolana come soldato che amava a sua patria e a sua popolo e il 5 di marzo che fu la fecha triste di sua partita, proprio il prossimo meso per cumplire un anno. Che stiamo contemplando in questa programazione, stiamo contemplando muestras, filmati, entrevisti a personalità importanti, presidenti, funzionarii pubblici che avevano di cerca la presenza, che sintono la humanità del Presidente Sì e lo che è più importante in lui, su liderazgo come un hombre che a livello mondiale che lavorò per la giustizia sociale, per i pobrai, per i più excluiti e perché i popolini si unieran per risolvere i propri problemi in termini di solidarietà, di complementarietà. Credo che fu un gran hombre della humanità perché contribuì a questi due grandi schermi, che è riscattare la libertà dei popolini, riscattare la giustizia sociale, riscattare la libertà e a la vez trattare di che questi popolini possano integrarsi per poter acommettare tutto ciò che ha a vero con la felicità, il benessore e il risultato che abbia una stabilità nel mondo, la pazza del mondo. Io credo che il Presidente Chávez è un leader mondiale che merece questa commemorazione. Per qui passò Chávez, per di qua, per qui, passò Chávez. Che relazioni c'era tra il Presidente Chávez in Italia. Si, effettivamente il Presidente Chávez estuvo in tre occasioni, visitò in primo lugar nel 2001 al Papa, tuvo una intervista con il Papa Juan Pablo II, posteriormente, in due opportunità, combinò visitati tanto al Vaticano come alla Repubblica Italiana e a su Presidente e a dell'Italia, però a la vez, tuvo una gran compenetrazione con una organizazione molto importante che ci corresponde a noi a questa occasione di rappresentare, che è la FAO. È stato un hombre che si identificò con i obiettivi e con il compromesso che ha la FAO ante il mondo della eradicazione del hambre e la pobrezza, perché è stato uno dei piloti fondamentali della sua luce, lavorare per che i pobri sali da loro condizioni di pobrezza, per che i pobri abbiano sicurezza alimentare, per che i pobri abbiano salute, educazione. Per tanto, questa Organizzazione delle Nazioni Unite anche fu parte della sua luce e partecipò in due opportunità in posizione estelare di invitato di honor per la Organizzazione delle Nazioni Unite, encargata di agricoltura e alimentazione. Ugo Chávez, Presidente Eterno, che significa per il popolo di Venezuela? Bueno, perché, effettivamente, lo che lo vanno a convertire in Presidente Eterno è tutti quelli che nel mondo valoriamo lo che significò su obra, su corto passo per la vita, però che vanno a fare di questo passo per la vita un legato che ci va a inspirare permanentemente, che ci va a inspirare sempre, non solo a questa generazione che siamo qui, che crediamo di maniera diretta su legato, ma per le futuri generazioni, per la paz del mondo e per alcanzare una humanità che possa aiutare la condizione di chiamarsi tala. Grazie a tutti nell'ade Grazie Grazie a tutti.